la Roma è passata in vantaggio la Roma è passata in vantaggio la Roma in vantaggio in vantaggio la Roma dopo 22 minuti il vantaggio della Roma al tredicesimo del primo tempo la Roma, la Roma solo due minuti alla ventiduesimo Roma in vantaggio la più bella del mondo non è ti amo, la Roma in vantaggio sono nato così, nato della Roma da quando sono nato ho una fede sola Roma sulle scarpe, Roma sulla pelle Roma nel mio cuore le stelle sono nato così, nato della Roma e sull'argomento una parola sola ho tradito anche qualche fidanzata mamma è la mia squadra sono nato così, nato romanista la prima cosa bella che ho mai visto era una maglietta con cui andavo a scuola giallo, rossa come la Roma è la Roma che sta sulla mia pelle è la Roma che sta dentro di me è la Roma le lacrime più belle i miei bracci e i sorrisi i miei giorni così è la Roma che mi fa sempre solo dire sì quando il primo anno eravamo al settimo posto erano tutti i nostri amici il secondo anno che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone hanno cominciato a guardarci storto noi possiamo avere tutti amici a una condizione di ritornare al settimo all'ottavo posto questa legge dell'antipatia delle ostilità è una legge che si usa contro quello che dà noia Buongiorno, buongiorno a tutti amici di LomangeloLossa.it ben ritrovati a Marco Violi allora, non perdiamoci in chiacchiere 9.50 di martedì 23 aprile 2024 ben ritrovati subito con noi in collegamento il direttore editoriale di LomangeloLossa.it Maria Paola Violi ciao Maria Paola ciao, un saluto a tutti è un po' più alta la voce un po' più alta la voce grazie a Marco a Marco ma che è sta voce come la mia voce eh sì sei tutto moscio eh beh la Roma ieri ha perso scusa che devo essere pure felice non so io eh beh ma bisogna essere bisogna cercare di dare delle motivazioni però a questa squadra per riprendersi eh sì le motivazioni mica le devo trovare io le deve trovare dei rossi mica io le devo trovare le motivazioni se non si trovano le motivazioni in Roma-Bologna per un cioè che è uno sconto Champions che le devo trovare io io che non so nessuno eh scusami eh vabbè però anche da parte dei comunicatori deve venire una diciamo una critica costruttiva sì vabbè ancora ancora si aspetta ai comunicatori cioè veramente ma ci stiamo rendendo conto di quello che stai dicendo ma non che è giusto quello che dici tu ma è utopistico perché tu se leggi i giornali di oggi eh no a parte la Gazzetta dello Sport che fa i complimenti a Tiago Motta tutti a dire eh la Roma è stanca la Roma ha giocato 70 minuti eh in 10 contro 11 contro il Milan ha pagato le fatiche di Coppa eh vabbè che vuol dire scusami eh se se non è una rosa per le due competizioni ne giochi una e basta ne scegli una e basta esatto esattamente quello che che è il problema della Roma cioè la Roma non ha purtroppo come hai detto tu una rosa all'altezza per poter giocare le due competizioni perché quelli che dovrebbero essere i sostituti purtroppo non non possono essere nemmeno presi in considerazione ma ne verremo ha giocato quasi con la formazione titolare perché mancava solamente Lukaku e vabbè Di Kappa vabbè ok ma per il resto ha giocato con tutta la formazione titolare con Di Bale Ceraui Paredes Pellegrini e poi devo dire che spariscono dal campo Pellegrini è tornato il Pellegrini dell'era Mourinho si può dire no? e beh evidentemente ha queste problematiche che non erano dovute all'allenatore quindi vorrei che la gente cominciasse a capire che questi problemi non dipendono né dal modulo né dall'allenatore né da qualsiasi altra scusante gli vogliate trovare ma è il giocatore che è fatto così quindi più di questo non gli si può chiedere a Pellegrini forse è un suo limite forse è un suo limite cioè basta prenderne anche delle cose ma probabilmente è un suo limite ma anche nel senso che a parte Pellegrini che ha fatto una partita bruttissima io non ho visto i voti dei giornali ma sicuramente ci saranno 6, 5, 6 presumo poi magari qualcuno gli darà pure la sufficienza piena oltre no no guarda Marco io ieri ho visto non mi ricordo quale quale giornale ti dico la verità questo non me lo ricordo ma solo Asmoon aveva preso 6,5 e compreso Di Bala che aveva preso 5,5 gli altri tutti tra il 4 e il 5 mi pare perditele una in casa come fai a a parlare diversamente no è chiaro purtroppo parla chiaro il risultato e parlando della partita De Rossi ha detto siamo stati troppo nervosi troppo insomma ci siamo fatti nervosire dopo il primo cartellino che ha ricevuto Paredes che non c'era ma non possiamo essere non possiamo nervosirci per un cartellino che effettivamente non c'era però queste sono alibi se permetti sono alibi queste sono giustificazioni che non che non permettono forse lui quando era giocatore poteva far credere che erano queste le giustificazioni ma chi ha visto la partita ieri ha visto una partita bruttissima della squadra cioè non c'è stato un repasto che ha funzionato ieri l'unica momento in cui si è visto qualcosa di positivo è stato quando è entrato Asmun e allora lì hai visto qualcosa ma altrimenti cioè ieri sono stati veramente uno schifo tutti i reparti compreso il reparto difensivo che è sempre stato un reparto che ha fatto bene cioè che è sempre stato attento proprio ieri anche Mancini pessimo proprio pessimo ma ti ripeto era come se almeno la mia impressione poi non so perché ieri purtroppo l'orario non ha permesso che io vedessi tutta la partita però il secondo tempo l'ho visto tutto cioè anche i reparti dove che hanno sempre funzionato ieri sembravano spaesati cioè mi sembrava una Roma che era tanto tempo che non la vedevo perché anche quando c'era Murigno adesso non è che lo voglio sempre tirare in ballo ma siete in ballo voi giornalisti che lo tirate in fuori non tu Marco ho letto allora che appunto danno la colpa ai pochi punti che sono stati fatti nel girone riandata e che quindi stiamo pagando allora se i giocatori avessero giocato non fatto finta di giocare a quest'ora avevamo i punti magari non tutti però perché certamente le partite si giocano in due squadre è probabile che magari qualcuna l'avrebbe potuta perdere ma non persa malamente come le prime partite guarda ti posso dare un dato cioè tra la Roma di Murigno e di De Rossi contro le prime quattro in classifica quindi Inter Minan Bologna e Juventus la Juventus vediamo perché c'è ancora la partita di ritorno però la Roma ha sempre perso non ha mai vinto Inter due sconfitte una con Murigno una con De Rossi Milan due sconfitte con Murigno Bologna due sconfitte con De Rossi e con Murigno Juventus una sconfitta con Murigno vediamo De Rossi cosa farà allora Marco per ritornare alla partita perché altrimenti poi ci dicono che viviamo in una realtà dissociata allora quello lo dicono i coglioni quello lo dicono i coglioni scusate quello lo dicono gli odiatori di professione quelli che cercano di distorcere la realtà facendo pure post farsi no? perché li fabbricano i posti no no ma io non li ho nemmeno citati quindi no non ho detto io lo dico io perché è vero allora quello che io ho visto ieri è stata una Roma che aveva paura confusa che non è stata capace di reagire anche De Rossi nel momento in cui tu ti trovi due a zero cerca di reagire cerca di apportare dei miglioramenti il cambio Asmun Ebram era un cambio preventivato perché Tammy non poteva reggere i 90 minuti infatti l'ha cambiato subito nel secondo tempo l'ha cambiato quindi cioè non è che dici sai ho fatto dei cambi che hanno portato hanno cercato di risolvere la questione zero cioè ieri anche De Rossi ha fatto zero comunque ti posso dire una cosa Di Bala Baldanzi si trovano molto bene insieme sì qualche dato positivo c'è no io ho notato che con Baldanzi Di Bala è leggermente migliorato e la Roma è stata leggermente un po' più pericolosa niente di che però un po' più rispetto all'anonimato del primo tempo c'è stato no questa hai legione hai perfettamente ragione Marco perché quando e io infatti ieri mentre vedevamo la partita ti ho detto guarda Marco che mi sembra che funzionino Baldanzi Di Bala e Asmun insieme perché c'era più movimento rispetto come dici tu appunto all'anonimato del primo tempo però comunque troppo poco diciamo incisività troppa poca concentrazione troppa poca convinzione cioè quella partita tu la dovevi quantomeno pareggiare sì la stavi perdendo nel primo tempo ma vai a recuperare il risultato cerca di pareggiare ma poi hai preso un gol il contropiede è vergognoso cioè tu stai su 2 a 1 stai un passo magari dal pareggio e ti fai sorprendere impallinare con un contropiede dove sì Di Bala perde palla Di Bala ieri male 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 un po' meglio con un imbalanzi ma poi male complesso Di Bala perde palla al centrocampo e loro ripartono in contropiede e la difesa praticamente è inesistente Mancini Iorente ripeto vogliamo tanto bene a Mancini ma ieri partita pessima da parte di tutte e due ma guarda vogliamo bene pure tanto a Iorente Iorente non è che voglio dire è un giocatore che spesso nelle partite importanti è stato come dire determinante risolutivo però ieri c'era qualcosa che mancava nella testa dei giocatori e quel qualcosa vero si ha provato a dirlo durante la settimana cioè nella conferenza stampa cioè era proprio quella stanchezza mentale che loro non sono da cui loro non sono riusciti ad andare oltre questo è stato il loro problema cioè perché per carità ci sarà tutto quello che vuoi la stanchezza fisica però a un certo punto tu sai che questa è una partita determinante per quanto riguarda diciamo il percorso Champions che e non devi perdere terreno perché adesso cioè la situazione si è maledettamente complicata ma proprio maledettamente complicata beh l'Atalanta deve giocare recupero noi pure dobbiamo giocare recupero vediamo come va però l'Atalanta è un punto quindi non lo so è molto complicata la corsa Champions si è complicata molto il pareggio avrebbe permesso di tenere in vita le due situazioni sia la Champions che il quinto posto adesso addirittura il quinto posto è il rischio ma è per questo che ti sto dicendo cioè ieri non si doveva cioè si doveva cercare in tutti i modi di prendere quel cavolo di pareggio che sarebbe stato fondamentale e invece è sfumato tutto e quindi questa è stata poi la diciamo la situazione che ne è derivata sì ma De Rossi comunque non mi è piaciuto l'atteggiamento anche della panchina come mi facevi notare tu no? perché sul 3 a 1 ha smesso di dare indicazioni praticamente non dava più indicazioni non citava più la squadra non diceva più andare a cercare il pareggio si era messo lì mani in tasca cioè come va va ormai è persa è persa non è inutile che mi metto a dire qualcosa alla squadra mi ha dato questa sensazione magari sbaglio però dalla televisione è così no no Marco assolutamente ieri De Rossi a un certo punto come dici tu ha smesso proprio di dare indicazioni e quindi come dire si è rassegnato ma questo non è un atteggiamento possibile per un allenatore cioè tu devi incitare fino all'ultimo minuto della partita per cercare di evidentemente era anche così da giocatore io ti ripeto Marco non me lo ricordo perfettamente tutto lo ce l'avrai più in mente però evidentemente ha pensato che ogni tanto in qualche partita si eclissava ogni tanto che suonava la carica però diciamo che sono state sporadiche con Roma a Barcellona parecchie partite la portata di lui alla vittoria però non vorrei era anche un'altra Roma era anche la Roma di Naingolani di Strotman di Salah di Totti di Gego era un'altra Roma non vorrei e qui dico una cattiveria che si fosse ormai come dire sia nel suo stato cioè abbia ormai ottenuto quello che voleva cioè il rinnovo e ormai chi si è visto si è visto perché non è così cioè tu quel cavolo di contratto te lo devi guadagnare giorno dopo giorno perché adesso che hai il contratto e sai che farai un altro anno probabilmente altri due due anni almeno più l'opzione per il terzo sì ti devi andare a guadagnare quel non dico la pagnotta perché tutti se la guadagnano però comunque devi essere lì sempre sul pezzo non è che dici vabbè ormai è andata ormai è andata di che cioè c'è la classificazione in Champions se tu la butti così alle ortiche vabbè io non guarda è stata preparata male lui ha trovato alibi sin dalla partita dalla conferenza stampa parlando di effetto florida parlando di ingiustizia i tifosi giustamente sono andati dietro perché che fai quando si parla di qualcosa che va contro la Roma i tifosi cercano di difendere la Roma non sono i tifosi che devono difendere la Roma è la Roma stessa che si deve difendere nelle sedi opportuni appunto quindi in Lega oggi su Roma ho letto un commento che la Roma deve partecipare più alle riunioni di Lega con i loro rappresentanti con i presidenti perché se è entrato l'utito nel come dire nel consiglio come consigliere di Lega non capisco perché Dan e Ryan Freitino Ryan Freitino la Soloku non possano fare lo stesso e quindi questo secondo me è un dato oggettivo poi c'è anche chi dice che non si può perdere in casa col Bologna perché davanti a quella moltitudine di persone perché effettivamente lo spettacolo è stato deprimente forse peggio perché con l'Inter me ne aspetto di perdere ma col Bologna mi aspetto di giocarmela da pari come minimo vedi Marco il problema è questo Bologna ha vinto per meriti ma anche per evidenti demeriti della Roma per carità nessuno vuole togliere al Bologna che abbia fatto una bella partita però la Roma in difesa non c'era proprio c'è il anche Svilar anche Svilar scusa se ti interrompo anche Svilar tutti a dire il gol di Zilkze era bello tutto quanto ma lì la papà era di Svilar lì si va a passare il pallone sotto le le braccia non puoi cioè veramente e la palla poi non era impossibile perché ha superato la linea di tanto così quindi un po' di attenzione e non si possono come ha detto De Rossi non si possono prendere gol al 43 minuto a un minuto alla fine del primo tempo non si possono prendere gol lo so ieri per me è stata una partita che è stata preparata come dici tu male già dall'allenatore quindi diciamo problemi ci sono stati già secondo me proprio come l'ha impostata a livello mentale durante diciamo i giorni della preparazione poi non sei stato in grado di essere incisivo e di dare forza e coraggio ai giocatori ma nemmeno idee ieri non ha dato nemmeno idee no nessuna idea nessuna idea niente 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 quindi a un certo punto visto che la partita si era messa in una certa maniera trova delle soluzioni alternative per contrastare ieri il Bologna ha fatto quello che gli è farsi è piaciuto cioè non c'è stata possibilità di contrastarlo ma perché sei stato tu incapace a trovare delle soluzioni adesso mi venissero a dire giornalisti o cioè chi ne capisce più di me ma ieri De Rossi cioè non è che ha giocato contro una squadra impossibile ha giocato contro la sua diretta avversaria e ha dimostrato di essere inferiore la Roma al Bologna allora tu hai detto una cosa giusta in privato no Inter e Bologna sono le migliori squadre del campionato fino adesso fino a quello mancano cinque partite il Bologna se arriva terzo o secondo secondo non so perché è difficile ma se arriva terzo non ruberebbe nulla perché è migliore addirittura della Juve è migliore del Milan anche anche del Milan ma il Milan è già più difficile perché il Milan ha accumulato punti però il Bologna per come gioca l'espressione del gioco tutto quanto è Inter e Bologna sono le squadre migliori del campionato ma guarda Marco io non è che voglio dare la colpa alla Roma a prescindere però voglio dire tu ieri dovevi pareggiarla non ti dico che la dovevi vincere no no allora per come si era messa il pareggio era olocolato e io ci credevo quando ha segnato Asmoon tu mi hai detto addirittura quando io ti aggiornavo ti dicevo guarda stiamo perdendo 2-0 tu mi dicevi vedrai che la riprende nel secondo tempo e infatti con Asmoon ci stavo credendo poi però vedendo l'atteggiamento della squadra ho visto un atteggiamento rinunciatario che perdeva in contesto al centrocampo che Pellegrini era diventato un'altra volta il fantasma che Cristante camminava in campo eh eh beh quelli sono stati problemi ma quelli sono stati problemi quindi ma anche Paredes non ha fatto una bella partita Paredes certamente anche Celic ha giocato male tant'è vero che si era sostituito Violente ha giocato male tutti tutti guarda salvo solo Asmoon Asmoon e basta ma anche eh lo stesso Tammi cioè ieri proprio non lo so c'era o non c'era in campo era la stessa cosa quindi sai che c'è da Tammi me lo posso aspettare perché è appena rientrato dall'infortunio la staffetta era prevista me lo posso aspettare ma da chi ha tirato la carretta fino adesso mi aspetto sempre quel qualcosa in più perché come dice Pellegrini la fascia di capitano va portata ogni giorno e bisogna e bisogna meritarsela ogni giorno e ieri va 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 belle parole guarda belle parole belle parole però poi deve fare i fatti eh scusami deve fare i fatti belle parole senti Marco se vuoi la verità è già da qualche settimana che la Roma non è più la Roma spumeggiante appena DDR è arrivato e ci sono tutti sono tutti si sono tutti sbracati perché alla fine non hanno più tutta quella tranne col Milan che hanno giocato bene tranne le due partite col Milan a Marco il Milan non è niente di che ma proprio niente di che adesso magari qualcuno potrà dire ma il Milan non per diciamo per le potenzialità che ha che sono tante rispetto appunto anche agli uomini che ha a disposizione è proprio che non è una squadra ben gestita abbiamo incontrato il Milan nel momento peggiore del Milan questo si può dire perché per carità questo è vero è un dato di fatto però che adesso vogliamo portare il Milan a chissà che livello il Milan visto quest'anno fa proprio ridere non è assolutamente una squadra all'altezza poi non lo so il prossimo anno cosa succederà però noi possiamo valutare quello che abbiamo visto quest'anno e ha avuto diversi alti e bassi il Milan durante la stagione quindi non è stato una una grande stagione e giustamente la Roma ne ha approfittato in Europa League che appunto riuscendo a battere e ad andare avanti nella competizione però la Roma nelle ultime settimane tra almeno nel campionato non mi vorrai certo nascondere che sta facendo bene no no l'abbiamo detto derby giocata da Murigno Milan giocata da Murigno ma non che è un gioco brutto è un gioco un altro tipo di gioco allora io avrei capito di più invece di andare all'arrembaggio col Bologna e prendere due contropiedi praticamente di andare un po' più soft un po' più attendista attendere il Bologna e ripartire sanno vecchio contropiede perché la Roma quando non si hanno le forze bisogna fare così il Bologna ha fatto così ha fatto così si è difeso ed è ripartito ha vinto chi? il Bologna sì però Marco ieri parlavo cioè qualcuno mi ha scritto sul mio profilo Twitter dicendo che io avevo detto che appunto Tiago Motta era un discepolo di Murigno e che in fondo lui avendo una squadra organizzata e concreta giocava anche Ciabbi Alonso lo è anche Ciabbi Alonso eh appunto devono stare attenti perché quelli sanno come si vincono le partite e ieri vi ha dato dimostrazione cioè non è che si vince facendo chissà che cavolo di gioco ha vinto facendo quel poco minimo necessario per buttarsi la gara a casa poi che hanno dei bravi giocatori dei giocatori funzionali dei giocatori che poi dei giocatori valorizzati perché eh Erl Azzuzzi che io non conoscevo veramente l'ho scoperto ieri perché gioca poco Zirze si conosceva Salemekers che da quando è dato via del Milan è rinato al Bologna e gli mancava Ferguson che è un giocatore fondamentale per il Bologna che fa girare tutta la squadra gli mancava lui cioè capito era un'occasione più unica che era non dico vincere uscire in Danny col Bologna pareggiarla per poi giocarsi le ultime chance contro Napoli contro Atalanta contro Juve perché sono tutti scontri diretti che rimangono alla Roma e che ci rimangono a concludere Maria Paola allora tu hai detto i tuoi peggiori sono praticamente tutti il migliore Asmun voto dai un voto ad Asmun e un voto a De Rossi praticamente perché poi è lui che si deve prendere oneri e onori allora De Rossi per come ha preparato ieri la partita sicuramente cinque non di più anzi potrei dargli anche di meno Asmun per quello che ha portato cioè grinta voglia cioè ci ha creduto l'unico che ci ha creduto anche appunto sei e mezzo sette però volevo dirti solo una cosa Marco ieri la partita leggevo forse l'ha detto proprio De Rossi poteva essere diciamo vista sia con una Roma tendista ma anche con una Roma più propositiva ieri la Roma ha sbagliato in qualsiasi delle due opzioni De Rossi decise di diciamo di di approcciare la gara quindi è proprio lui che ha toffato ieri per carità lui è riflesso di quello che poi sono i giocatori però ieri lui è andato proprio in conclusione cioè non sapeva che pesci prendere non sapeva come arginare il Bologna e se non sai arginare il Bologna come fai a Leverkusen poi a vincere la gara perché Leverkusen stiamo lì a livello col Bologna il Bologna è molto forte per fortuna che la prima partita guarda che ti arrivo a dire per fortuna che la prima partita si gioca in casa perché se tu ti hai un risultato ah Marco pure ieri si è giocato in casa e quelli erano dei morti in campo ma magari troveranno delle motivazioni extra me lo voglio augurare che in Coppa la Roma ha sempre trovato sin dai tempi di Mourinho no ah Marco se ci dobbiamo attaccare ragazzi sette punti Mourinho dal quarto posto quando è stato esonerato non c'è mai stato è stato sempre a quattro punti dal quarto posto non sette come adesso eh allora se ci vogliamo raccontare favole ce le raccontiamo altrimenti allora Marco viva DDR forza DDR allora Marco guarda che ti dico che se finisce quest'anno il campionato tra il quinto e il sesto prosto la Roma è già grasso che cola ma obiettivo minimo è quinto ormai non puoi arrivare c'è pure la quinta squadra in Champions non puoi arrivare sotto il quinto posto obbligatorio il quinto tu dicevi prima tu dicevi prima gli altri danno la colpa a Mourinho per il campionato del girone d'andata ma come fai hai perso praticamente De Rossi ha perso tutte le partite che ha perso Mourinho vuol dire che questa squadra è inconsistente vuol dire Marco che vogliamo trovare sempre le solite scusanti ma gli errori adesso a De Rossi gli perdoneranno ma tutto tutto gli perdono Mourinho Cristin Croce veramente dai ancora devo sentire dire cose veramente ignobili e diffamanti su quell'uomo io spero che prima o poi lui prenderà provvedimenti ma l'unico provvedimento ma che provvedimento con questi quattro pesciaroli ma deve dimostrare con i fatti di trovare una bella squadra un bel club e di dimostrare il suo valore che è tanto il suo valore lui l'ha detto ieri a Roma facevo più dell'allenatore l'aveva sempre detto sin da Budapest ma lui è rimasto inascoltato ora speriamo che De Rossi gli diano un direttore tecnico un direttore sportivo un general manager così l'organigramma societale è completo e lui si si può solo concentrare sul aspetto tecnico sull'allenare ah Marco sai che ti dico che lui è contento così ha ottenuto quello che voleva però adesso bisogna che se le va a sudare le partite perché è inaccettabile inaccettabile che abbia perso ieri con il Bologna mi dispiace inaccettabile perché quello era il suo diretto avversario e tu con lui dovevi almeno pareggiare non permetterti di perdere in quel modo eppure malamente e poi a mezz'ora dalla fine hai tirato i remi in barca e chi si è visto si è visto ma che comportamento è ma tu come pretendi De Rossi di voler dimostrare che cosa a parole tu hai dimostrato con le squadre mediocre ma appena hai trovato una squadra un po' più organizzata più concreta di te perché in Bologna ieri è stato semplicemente più concreto perché non è che abbia fatto vedere questo gran gioco cioè a livello proprio di di gioco andavano in controviede e per questo che sono arrabbiata e per questo che sono arrabbiata perché gli hanno lasciato fare quello che volevano loro e loro e loro giustamente ne hanno approfittato mica sono scemi va bene ma le brava grazie grazie allora del tuo intervento grazie mille ci sentiamo poi nei prossimi giorni con calma si spero di essere un po' più calma oggi sono molto avvelenata e vabbè adesso adesso con calma poi ragioniamo tanto siamo tutti tifosi no ci rode quando perdiamo tu mi hai detto che è sta voce e io purtroppo sono deluso sono molto deluso lo dico no io invece no io invece no perché dico se avete le palle giovedì a Udine vincete la partita se avete le palle perché è questo che devono fare una cosa ho letto oggi da parte di un giornalista che Udine diventa in questo momento una partita fondamentale e quindi vedi un po' c'è i 20 minuti io non so cosa possono fare i 20 minuti vabbè vediamo i 20 minuti si devono inventare qualcosa ha perso ieri potevi vincere ieri e pareggiare a Udine o pareggiare ieri e pareggiare a Udine e poi vabbè comunque e stare più tranquillo e affrontare poi appunto le gare che ti venivano più avanti in un atteggiamento più tranquillo invece adesso devi andarci lì con l'ansia perché devi fare qualcosa per migliorare sta situazione che hai creato tu ieri facendogli fare al Bologna quello che gli apparsa è piaciuto certo va bene Maria Paola grazie Maria Paola vi odi ciao grazie ciao un saluto a tutti ciao grazie Maria Paola grazie allora noi andiamo in pausa e ci ritroviamo tra poco dopo una breve pausa e poi continuo io chiaramente con la puntata di Roma giardorossa.it a tra pochissimo a tra pochissimo e poi a tra pochissimo Grazie a tutti. 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 Manlio. Grazie a tutti. ha smesso di allenare si è messo le mani in tasca gli mancava la pipa gli mancava la sigaretta elettronica e non so se fu maderosi gli mancava la pipa in bocca e ha smesso di allenare ha smesso di dare indicazione ha smesso di fare tutto non è un atteggiamento normale non è un atteggiamento normale non è un atteggiamento da grande squadra che tu su 3 a 1 con 20-25 minuti che mancano ti arrendi e basta e no oppure vai in maniera sconclusionale in avanti rischiando anche di prendere altri contropiedi che potrebbero proprio distruggerti la partita definitivamente ieri Bologna superiore in tutto fisicamente tatticamente sui contropiedi ha usato la testa ha usato l'intelligenza ha usato la sagacia Tiago Motta grande allenatore grande allenatore che io avrei presa la Roma io avrei presa la Roma perché ha fatto un percorso lui si trova bene a Bologna e io sono convinto che lui probabilmente non so rimarrà a Bologna io questo non lo posso sapere non so si parlava di Juve fino a una settimana fa poi pare che Allegri possa rimanere da Juve ma al di là di questo non so quello che succederà però Tiago Motta è un grande allenatore e si è dimostrato un grande allenatore contro De Rossi che è ancora inesperto ora a Udine si incontrano due neofiti due inesperti due che stanno facendo scuola guida con tutto il rispetto Cannavaro e De Rossi De Rossi però ha non so quante partite 15-20 non so quante 15 partite con la Roma tra Serie A e Coppe quindi Cannavaro è proprio alle prime armi si può dire allenato solamente in Serie B con scarsi risultati quindi facciamo valere il peso specifico di De Rossi e speriamo che a Udine in quei 20 minuti la Roma riesca a trovare quel bando della madassa per sbrogliare e cercare di andare a vincere la partita perché non ci sono altri risultati a Udine bisogna vincere bisogna mettere anche pressione alla squadra ma non pressione positiva pressione tu devi vincere abbiamo detto la Roma non può sbagliare un colpo hai vinto il derby ok e siamo tutti felici hai vinto con il Milan hai eliminato il Milan e siamo tutti felici però poi se tu vanifichi tutto in una partita che non ti chiedevamo di vincere a tutti i costi per come se ne ha messa si poteva pareggiare o perlomeno l'inerzia era quella del pareggio tu non puoi fare quella partita di M come ieri nel secondo tempo nel primo tempo inesistente hai fatto fare al Bologna tutto quello che voleva fare il Bologna ed è inutile prenderci con l'arbitro con il guardaline con l'assistente con le cose perché ti puoi incazzare 10 secondi 1 minuto 3 minuti per la munizione di Paredes poi vai avanti la munizione di Paredes l'abbiamo detto non c'era però vai avanti ti puoi incazzare 30 secondi per Iorent ammunito ma poi vai avanti e continui a giocare e continui a giocare qui nessuno sta crocifiggendo dei rossi nessuno sta facendo paragoni però i paragoni poi li fate voi li fate voi giornalisti li fate voi tifosi e poi io leggo i social le cose e dico ma che cazzo sarà di cioè capito non potete dire eh però nel gioco di ritorno abbiamo fatto tanti punti cioè quanti punti andiamo ad analizzare quanti punti abbiamo fatto nel gioco di ritorno e quanti in andata più o meno sono gli stessi e mancano 5 partite 4-5 partite alla fine cioè non è che ne mancano 10.000 poi la coppa è un'altra cosa la coppa mi aspetto una squadra più sul pezzo più combattiva più spalagnina ma spalagnina nel senso che è accorta dietro e poi va a fare un gioco di rimessa perché è l'unico modo per battere i Leverkusen come ha fatto Mourinho e io ritengo devo sempre ritornare al punto di partenza Mourinho ha eliminato i Leverkusen i Leverkusen non perdono la partita di Roma dell'anno scorso poi una serie di trappareggi e vittorie imbattibilità incredibile incredibile quindi cosa ci dobbiamo aspettare i Leverkusen è una squadra superiore ora andiamo a Udine Napoli Leverkusen queste due partite sono fondamentali per la Roma in Champions League o no Champions o no questo è ieri ieri potevi pareggiare rimaneva tutto invariato andavi a Udine ti giocavi la tua partita vincevi pareggiavi vedevi come andava poi andavi a Napoli e te la giocavi e andavi a giocare col bar Leverkusen e te la giocavi con le tue carte con le tue armi ma ieri perdere era proprio l'ultimo dei risultati che io mi sarei aspettato ero fiducioso molto per la vittoria per come si era messa speravo in un pareggio per come si era messa e ci credevo che la Roma potesse pareggiare dopo il gol di Asmund però mi dovete dare atto che ieri non ha capito niente nessuno né giocatori né allenatore né nessuno ma nessuno 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 sulla Asmund salvo perché è l'unico che ha dato quella vivacità in più e che ieri ha parlato da Lider e ha detto ragazzi guardate che dopo partita ancora la strada è lunga e dobbiamo ancora giocare dalle partite ho sentito solo Asmund parlare in questa maniera neanche De Rossi neanche De Rossi De Rossi a giustificare siamo stanchi prima della partita non puoi dire che siamo stanchi e il giorno prima parlare dell'effetto Florida che poi si convincono i giocatori che sono stanchi e sento la stanchezza più di prima non puoi dire a 10 minuti della partita eh però noi siamo più stanchi di loro e grazie al cavolo il Bologna mica ha giocato e noi abbiamo giocato giovedì e il Bologna mica ha giocato grazie al cavolo che sono più riposati loro c'hanno solo il campionato ma che discorsi sono ma che discorsi sono ma ognuno poi la vede come vuole se poi uno vuole vedere con i paraocchi mettetevi i paraocchi come il cavallo e andate a fare le corse a Capanelle o a Tordivalle non si è aperto Tordivalle non lo so credo che sia chiuso andate a fare a Capanelle e cose corse con i paraocchi e andate a fare i fantini se volete vedere le cose con i paraocchi se poi vogliamo vedere le cose con un minimo di di costrutto di critica costruttiva che non è indistruttiva ma costruttiva diciamo che possiamo dire che un po' me girano che la Roma abbia perso ieri un po' ma un po' ma un po' che poi sono deluso è un'altra cosa deluso molto deluso molto deluso perché mi aspettavo un atteggiamento diverso da parte di tutti di tutti giocatori allenatore tutti 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 nessuno escluso soprattutto il giocatore allenatore perché poi sono loro che scendono in campo è l'allenatore che dà le istruzioni e i giocatori che devono ricevere ieri ieri Pellegrini l'ho visto praticamente come come Pellegrini di 4 mesi fa di 5 mesi fa non è possibile è inaccettabile è inaccettabile una cosa del genere è inaccettabile Mancini non posso capire perché ha tirato la carretta fino a mo ha giocato con la pubaggia con Muligno poi si è ripreso ha giocato ha giocato ha giocato ha segnato ti ha fatto passare due volte il turno in coppa grazie ai suoi gol mica è veramente Iron Man Mancini mica ti può sempre togliere i castagni da fuoco Mancini è chiaro che devi anche cercare di se Mancini è stanco mettere qualcun altro io non so non so che le alternative sono poche però è anche vero che purtroppo quando manca Di Bala manca la luce quando manca Lukaku manca la luce e chi lo diceva questo e andatevi a vedere le interviste del prima del 16 gennaio 2024 chi diceva questo era solo una persona che senza Di Bala quando Di Bala non c'era o era assente o giocava male ed era stanco e quando Lukaku era assente la Roma era un'altra squadra c'è una Roma con Lukaku e Di Bala e c'è una Roma senza Lukaku e Di Bala è la verità è la verità poi ci possiamo attaccare all'arbitro ci possiamo attaccare al fatto al fatto che la squadra abbia abbia speso molto contro il Milan possiamo attaccarci a tutto quello che volete voi però i fatti parlano chiaro parlano chiaro sono paesi e parlano chiaro 10.43 noi abbiamo finito tra poco il podcast potete risentire tutto in podcast grazie mille per l'ascolto per la visione appuntamento chiaramente a domani domani sarà già vigilia di quei 18 minuti di Udinese Roma e noi ci ritroviamo domani con calma per parlare della Roma con calma con relativa calma perché purtroppo sono tra l'incazzato e il deluso tiratemi un po' sul morale perché fate qualcosa perché vi aspetto vi aspetto aspetto a Roma che reagisca ciao forza Roma grazie a tutti è la squadra di tuo cuore Adesso vedi, adesso vedi Adesso vedi, adesso vedi Adesso vedi, adesso vedi Adesso vedi, adesso vedi Xavi, no, a volte vedi